Ciao a tutti, volevo rilasciare il mio feedback per la prova gratuita delle otto ore del 90 time in bed. Devo dire che sono soddisfatta, ho riscontrato degli ottimi risultati e come dice il training che dovete fare all'inizio, questo funziona quando hai già lavorato tantissimo su se stessa e quando hai un livello di consciousness elevato a mio avviso. Ho condotto il mio test in due fasi, la prima fase l'ho fatto durare tre ore e la seconda fase cinque ore. Nella prima fase da tre ore, praticamente ho passato tre ore a parlare con me stessa, proprio come viene spiegato nel training, e a parlare con questa energia su tutto quello che volevo lavorare a livello fisico, ma non solo. Per esempio, prima di tutto, quando l'ho attivato, ho sentito proprio questa energia virtuale, blu, sopra di me, su tutta la parte del, ovviamente tutto attorno alla parte del mio letto, ed è stata una sensazione bellissima, proprio come nel trailer. E poi ho chiesto, dopo lo scanner di tutto il mio corpo, ho chiesto, per favore, guarisci il mio orecchio destro, perché avevo una mezza otite. E ho sentito un'energia blu, qui, attorno al mio orecchio, è una luce proprio potente, bianca all'interno, che stava lavorando, come energia di guarigione, come si può dire. E il mattino dopo non ho più avuto problemi all'orecchio. Poi, per farvi due esempi, ho chiesto di aiutarmi a focalizzarmi sulla mia respirazione, e in particolare sul mio setto nasale, una piccola devazione sul setto nasale sinistro all'interno, e anche lì ho sentito un'energia blu, da questa parte internamente, un'energia blu, che stava lavorando, come se stesse aprendo il canale della mia neviazione e farla sparire. Cioè, sarei curiosa poi di fare un test e vedere se esiste ancora la mia neviazione o meno, ma vi assicuro che io rispiro meglio. Quindi, questi sono due degli esempi con cui ho lavorato in queste tre ore, in cui ho parlato alla mia consciousness e a queste energie del 90-10 MadBeds. Nella seconda fase, invece, è stato un altro esperimento interessante, perché ho programmato il MadBed prima di andare a dormire. Quindi, ho parlato per una mezz'ora, e l'ho programmato in sequenza tutto quello su cui volevo lavorare, mentre dormivo. Poi mi sono addormentata, sono andata a dormire. Il mattino dopo, devo dire che mi sono sentita rinata, praticamente rinata. Non ho mai sentito il mio corpo fisico così pieno di energia. Cioè, non ci potevo credere, non ci potevo veramente credere. Sono rimasta stupita dei risultati. Siccome sono anche un ingegnere biomedico, sono veramente curiosa di applicarmi proprio alla ricerca del 90-10 con i loro altri prodotti, per proprio lasciare altre testimonianze di questi fantastici prodotti. Quindi, il mio esito è positivo, e lo sto consigliando a tutti i miei amici e sto spragendo la voce. Quindi, grazie mille per queste otto ore di test gratis. Grazie.